ancora ben trovati dalla redazione di firenze smart in studio agnese fedeli vediamo la situazione del traffico della mobilità in toscana in questi minuti in a1 coda in uscita a calenzano per chi proviene da firenze segnala inoltre che è prevista neve in appennino ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali in a11 coda a tratti verso firenze tra pistoia il bivio con la 1 e tra bivio 11 firenze nord e firenze peretola qualche problema in fipili per lavori sale a 5 chilometri la coda in direzione mare tra montopoli valdarno e ponte della ovest in direzione firenze code a tratti tra ginestra e firenze scandici prima di salutarci per il traffico urbano di firenze segnaliamo rallentamenti sulla direttrice porta al prato viali piazza della libertà simili disagi inoltre per incidente segnalato in piazza donatello può versi in toscana infoservizio in collaborazione corregione toscana città metropolitana chirenze comuni chirenze per ora è tutto buon viaggio